Il titolare di una ditta di installazione di luminarie, Emanuele Manca, di 62 anni, originario di Monteroni, è morto mentre stava smontando le decorazioni luminose. È accaduto a Strudà, frazione di Vernole, dove si sono conclusi i festeggiamenti in onore della Madonna della Neve. L'incidente è avvenuto in piazza Vittorio Veneto, dove l'uomo stava smontando parte dell'allestimento. Con lui anche il figlio, Manca, che si trovava su una scala appoggiata ad un palo di legno, forse a causa di un malore ha perso improvvisamente l'equilibrio, precipitando a terra da un'altezza di 8 metri, subito soccorso e morto poco dopo. Sul luogo dell'incidente, chiuso al traffico, sono giunti i carabinieri della stazione di Vernole, assieme agli agenti di polizia locale. Il PM di turno, presso la procura della Repubblica di Lecce, Paola Guglielmi, ha disposto il trasferimento della Salma nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi. L'autopsia servirà a stabilire se sia stato un malore oppure una semplice perdita di equilibrio a provocare la caduta fatale dell'uomo.